Mirko Pasquinuzzi, il nostro coach di questa partita, ha avuto veramente notevole valore nella fase finale. Nei secondi finali le istruzioni date ai ragazzi sono state decisive per quei due punti messi a segno dal nostro capitano e gli altri dovuti dare alla formazione ospite ormai quando eravamo con tre punti di vantaggio noi. Quindi una tattica particolarmente adatta ed efficace. I ragazzi in fondo negli ultimi due minuti sono andati molto bene, erano molto concentrati e la volevano vincere. Per il resto la squadra sinceramente non mi è piaciuta, soprattutto nel primo tempo possiamo fare molto molto meglio. Siamo stati per lunghi tratti molto peggiori di loro. Loro oggi per 38 minuti ci hanno messo sotto e forse se guardiamo come hanno giocato la meritavano più loro di noi questa vittoria. Però le partite passano anche da giornate come queste. Il passaggio del turno passava da questa partita per noi importante. Va bene così, abbiamo preso due punti, ora miglioreremo anche nel gioco. Ci piace l'obiettività del nostro coach Pasquinuzzi. Una partita giocata, diciamo così, iniziata senza tanta passione, senza tanto entusiasmo. Poi a lungo andare la sconfitta in casa brucia per tutti. C'è stata la reattività, la reazione e si è sentita arrivare chiaramente. Sì, è vero. Nessuno vuole mai perdere in casa. I ragazzi ci tenevano in particolar modo perché era importante anche per il morale, per quello che avevano fatto. Fino ora erano due mesi che non giocavano una partita. Come ho detto, non abbiamo giocato bene, siamo comunque contenti.